Da rifare il processo d'appello a carico di Francesco Bisceglia, noto come padre fedele. Annullata col rinvio, la condanna a 9 anni e 3 mesi, inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro al frate Cappuccino, sospeso a Divinis nel 2008, a seguito delle accuse di violenza sessuale a carico di una suora. Dopo una lunga Camera di Consiglio, la terza sezione penale della Cassazione ha annullato col rinvio la condanna precedentemente inflitta il 17 settembre 2012. Annullata anche parzialmente, la condanna a 6 anni e 3 mesi, inflitta in appello ad Antonio Gaudio, segretario di padre fedele. La pena per lui sarà rideterminata da un'altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Si dice ampliamente soddisfatto l'avvocato Eugenio Bisceglia, lontano parente e difensore dell'ex frate. Finalmente, afferma, la Cassazione ha ampliato le norme del diritto che in questo processo non sono mai state rispettate. Ora si attende il nuovo rinvio, a data da destinarsi.